Ragazzi lo hanno ammesso, hanno ammesso il parsing bilancio e hanno ammesso le plusvalenze fittizie Hanno ammesso tutto, le hanno inventate loro le plusvalenze fittizie e lo dimostreremo Fermi, fermi, fermi ragazzi, i primi ad andare avanti, mi raccomando, mi raccomando, iscrivetevi al canale per voi gratis Attivate la campanellina per sapere in antetema l'uscita di nuovi video Mettete like a video, ma soprattutto ragazzi, ho un mantra, condividete, condividete, condividete Bentrovati amici, bentrovati Ragazzi, continuiamo con l'esposizione di tutti i furti che ha commesso l'Inter nella sua storia Come spesso dico, l'Inter ha commesso tutti i reati del codice penale, omicidio incluso E quando vi dico questo, ragazzi, non lo dico così su supposizione O perché è una tesi complottistica, o perché è una mia idea Ma ci basiamo sempre su documenti, su atti processuali, su sentenze della giustizia sportiva E quindi su prove sostanziali e concrete, ragazzi Questa volta andremo a vedere le plusvalenze fittizie e il falso bilancio Che l'Inter ha commesso agli inizi degli anni 2000, ragazzi Quell'epoca lì, perché dovete sapere che le plusvalenze Che poi alla fine la Juventus è l'unico che ha pagato per questo reato Per questo, diciamo, fattispecie di reato Le ha inventate l'Inter L'Inter ha inventato la plusvalenza fittizia Cosa fecero, ragazzi? Agli inizi degli anni 2000, a partire dal bilancio 2001-2002, fino al bilancio 2005-2006 Abbiamo, ragazzi, questi risconti su questi bilanci Perché la giustizia sportiva e quelli ordinari non potevano andare più indietro Solo per questo Ma si presume che l'Inter lo facesse anche negli anni passati Ebbene, tutto nacque da un esposto presentato dall'ex presidente del Bologna Giuseppe Frascati Ebbene, ragazzi, lui presentò questa esposta alla procura di Roma La quale passò gli atti, poi la procura di Milano La quale si dovette attivare per forza E negli anni post-Agentopoli La procura di Milano era una procura molto attiva All'epoca c'era Berlusconi, come presidente del Consiglio Come ben sapete Ebbene, la procura di Milano si attivò E avviò un'indagine per farsi il bilancio Cioè l'Inter e il Milan si scambiavano una serie di giocatori sconosciuti Ragazzini a specchio Quindi erano semplici scambi senza sborsare soldi Ma valutandole una cifra esorbitante Fino ad arrivare, ragazzi, alla cifra di 100 milioni di euro Ebbene, stiamo parlando del 160% di quello che era il patrimonio netto dell'Inter dell'epoca L'Inter, inoltre, oltre a fare queste operazioni con il Milan Fece anche delle operazioni con la Lazio E nella fattispecie per le operazioni che riguardavano il giocatore Crespo e Corradi E anche lì, ragazzi, tirano su altri 10-20 milioni di euro Che l'Inter in un primo momento, anche il Milan, negarono Dopodiché dovette partire per forza anche la giustizia sportiva Ma qual è la cosa determinante La fattispecie particolare, diciamo Se vogliamo paragonarla a quello che è successo alla Juventus nel 2022 Ragazzi, cosa è successo nel 2022-2023? Cosa è successo di diverso? Successo di diverso la giustizia sportiva Come al solito la FICC ha tutelato l'Inter E ovvero non è andato avanti Ha aspettato l'esito della giustizia ordinaria Che in realtà è la cosa più giusta da fare Perché? Perché se poi le accuse dovessero cadere Dovessero risultare infondate Tu non mi puoi far pagare il campionato O darmi una multa dei punti di penalizzazione Quando poi, semmai, il processo ordinario Evidenzi che in realtà Non solo sono innocente Ma sono stato anche diffamato Quindi, oltre il danno, la doppia beffa Quindi per evitare questo La FICC decise di aspettare Mentre con la Juventus Hanno detto che la giustizia sportiva Ragazzi, deve essere veloce Non può aspettare la giustizia ordinaria Per forza E quindi hanno penalizzato la Juve Velocemente Con l'Inter decisero di aspettare Ragazzi, uscirono fuori delle cose eclatanti Poi addirittura la giustizia sportiva Trammi della Covizoc Che è la società della FICC Che ha il compito di verificare Il bilancio della società E che se hanno i parametri economici Adatti per iscriversi al campionato Disse che l'Inter nel campionato 2005-2006 Ragazzi, sì Quello dello scudetto di cartone Disse la Covizoc Che l'Inter non poteva nemmeno iscriversi al campionato Che anche i galliani Insieme a Moratti e all'Inter Erano indagati per farsi il bilancio E quindi la procura di Milano Dovette archiviare tutto Poiché il fatto non costituiva più reato Non costituiva più reato Perché prima era reato Quando l'hanno commesso Dopodiché non costituiva più reato E quindi la procura dovette archiviare tutto La giustizia sportiva Però non poteva fare questo E quindi con l'atto della Covizoc In base alla quale l'Inter non poteva iscriversi al campionato Ricordiamo ragazzi Un campionato in cui L'Inter raccoglie delle intercettazioni in modo illegale Nasconde le proprie intercettazioni Dà le intercettazioni di Moggi Che sono molto ma molto meno gravi Di quelle di Moratti e Facchetti La Juventus in due settimane Venere mandata in B L'Inter da terzo posto Gli viene assegnato uno scudetto di cartone Dicendo che sono onesti Poi quando uscirono le telefonate Di Facchetti e Moratti La FIGC aspettò un anno Prima di analizzarlo Per far scattare apposta l'escrizione Per salvarli Ma attenzione Lì fece il terzo posto Ma la Covizoc Sulla scorta del fatto che l'Inter Patteggiò con la FIGC E ebbe ragazzi Una ridicola multa di 90.000 euro Se mi avete ascoltato bene C'è l'atto di patteggiamento Sia l'Inter che il Milan Patteggiarono Patteggiarono Ammisero le plusvalenze fittizie Ammisero il fatto di un bilancio Il falso in bilancio Dal punto di vista Della giustizia ordinaria Se la cavarono con Berlusconi Che penalizzò il reato Dal punto di vista La giustizia sportiva Invece patteggiarono E ebbero una multa di 90.000 euro Per 100 milioni di plusvalenze Una multa di 90.000 euro Quando la Covizoc Che disse Ebbene Tutta questa serie di plusvalenze Se l'Inter non le avesse fatte Se non avesse fatto questo reato Se non avesse messo a bilancio Queste plusvalenze fittizie L'Inter non poteva iscriversi al campionato Questa è la truffa più grande Della storia del calcio ragazzi Ma nessuno è più bravo di loro a rubare Perché l'unica cosa Che questi qua sanno fare meglio Di truffare Di rubare Di corrompere Di occupare Perché hanno occupato La TGC Poguido Rossi E quello di negare l'evidenza Ebbene Anche il Milan In quel caso Patteggiò E si beccò La 90.000 euro di multa E finì tutto In cavalleria Mentre la Juventus Come sapete Per plusvalenze Che non sono fittizie Perché qua alla fine Abbiamo visto Orsolini Dragos I due giocatori Di un certo livello E che oggi Addirittura Sono state valutate 10 volte In più Condannato alla Juventus 16 punti di penalizzazione Mentre l'Inter 90.000 euro di multa Si sono fatti incontestabili Ma l'Inter E le altre squadre di Serie A Hanno smesso a fare Plusvalenze fittizie Ragazzi No L'ultima Tanto per dirne una L'operazione Bastoni Dove l'Inter Ha comprato Bastoni All'Atalanta Per 45 milioni di euro E ha messo dentro Tre giovani Per un valore Di 19 milioni Quando valevano zero Le ha valutate 19 milioni Ha fatto 19 milioni Di culturale Isfitizie Quei tre ragazzi Ragazzi Dove sono? Non esistono più Non giocano più Nemmeno a calcio Ragazzi Non giocano più Nemmeno a calcio Stessa cosa Per Casadei Stessa cosa Per la storia Di Lukaku Colcerso Ragazzi È un porcaio Ragazzi Ma tra queste Innumerevoli Plusvalenze Fatte a specchio Tra Inter e Milan Picca sicuramente Quella di Brunelli Del portiere Brunelli Ragazzi Un caso assurdo Che non solo Fu una plusvalenza Fittizia Ma ci fu anche Farsificazione Di contratti Perché l'Inter Ragazzi È fenomenale A falsificare Farsifichi Passaporti Farsifichi Gli scudetti Farsifichi I bilanci Farsifichi Certificati Medici E Farsifichi E Farsifichi E lui Denunciò Non solo Alla giustizia Sportiva Ma anche Alla giustizia Ordinaria Ragazzi E se avete Dubbi Sulla benedicità Di questo Che ragazzi Vi sto dicendo Basta andarvi A documentare Su google Basta andare A cercare Una ricerca E vedrete Che troverete Tutto ciò Che vi dico Anche perché Vi metto in sovrimissione Le immagini E gli articoli Dell'epoca Ma attenzione Perché vi faccio vedere Un articolo Di una fonte Che per i nostri amici Prescritti Dovebbe essere In bancero Ebbene Metto un articolo Ragazzi Di un canale Dell'Inter Di un sito Dell'Inter I tifosi Dell'Inter Dell'epoca E vedete Cosa scrive Uno all'epoca I tifosi Dell'Inter Gli stessi Che oggi Sono sicuri Che verranno A commentare Questo video E negheranno Che l'Inter Abbia fatto questo Ma sapendo Che li posso Sbugiardare Però negheranno Perché sanno Gli altri tifosi Dell'Inter Sono così Ignoranti Che non andranno A controllare Non andranno A documentarsi Non andranno A fare ricerca Perché amano L'ignoranza E aprono vivere Su supposizione Sul sentimento Popolare Che lo sanno Che sono ladri E si ne vergognano Alcuni Altri invece Ne godono Questi sono Gli interisti Ragazzi La peggior Tifoseria Nel mondo Se ammettessimo Sotto intercettazione Tutti i presidenti Tutti i dirigenti Di tutte le società Di Serie A Ragazzi Altra che più svalenze Dovremmo chiudere La Serie A Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Commentando il video Qua sotto Ragazzi E sempre Fino alla fine Forza Giuseppe 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 Grazie.